Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! E quindi sono le 3 di notte qua dentro Eeeh, sti visiniamo Porca puttana! Cristo! Le doppie zucche piccoline Dove sta? Eccoli Tanto ci saranno occasioni d'arte Che dici? Non ci credo E' scoppiata E' scoppiata E' scoppiata No, no No, no Complimenti, Campe Cioè hai fatto tirano a Napoletana che non vuole insigne Prossima puntata Buona la pizza di Napoli E' scoppiata E' scoppiata E' scoppiata Secondo me Il fard penso che si metta con quel bel pennellone Sì Quel pennellone Tu, tu, tu hai fatto così Non io Ma hai fatto così Ma hai fatto così In cima tonda Che devo fare? Allora E si mette tipo così Si mette tipo così Tipo così, esatto Bravo Ma che c'era questo? E' pistole Che cazzo? E' il gallo E' il gallo E' il gallo E' fa male il gallo Mi è sciolto Un colpo